Ciao a tutti da Cadice, siamo pronti per partire per la qualifica per la rotta del rum e sarà un ottimo test per provare le nuove attrezzature tecniche, il nuovo abbigliamento tecnico SLEM quindi un saluto a tutti gli amici di SLEM, vi farò sapere dal mare e una volta arrivati all'Oriane avrete un feedback appunto su tutto il nuovo abbigliamento perché prenderemo un bel po' di onde, di mare sarà appunto un ottimo test, ciao ciao!